Gli italiani sono più intelligenti di quanto pensi un politico che fa promesse in campagna elettorale. Poi dice Berlusconi all'ossessione dell'Ubc perché non gli abbiamo consentito di fare i suoi comodi. Ricordo ad esempio sull'abbassamento delle tasse, noi diciamo va bene ma partiamo dai redditi bassi perché è giusto dare una mano a chi ha più bisogno, lui voleva partire dai redditi alti. Per cui stia tranquillo, stia sereno, si rilassi in questa campagna elettorale. Adesso senza l'Ubc potrai incominciare a abbassare le tasse a partire dai redditi alti. Io credo che non sarà un bel affare per gli italiani.